gindobre gindobre c'è in capra adesso ci fai lo spelling elena di gindobre zien qualcosa del genere faccio fatti obri peccato che elena scrive gindobre così come va bene siamo facciamo quella cosa iniziale poi mi dici quando conto da 5 a 15 4 3 2 1 bene come la vedi gli htci o cosme allora la vedo è seduta a terra con le gambe incrociate la scena gemi ma cosa fanno anche in una stanza quadrata questa che mi scappa trattava un po con io tutta bianca ciao a piava che pensiero sa perché non sa come uscire e questa cosa messa una paniera che stampa non fare ci sta copiava capo coi ci dà l'autorizzazione dai posso fare una stessa si va bene stiamo subendo degli attacchi manda l'uomo energia a chi sei tu e che ci attacchi provano non siete rossa cosa sua me anzi centinaia di centinaia di uomini e di uomo energia a chi sei tu a tutti a ti abbracci anche non tradurre sì se cavallina dato l'autorizzazione sì sì ok vediamo le interferenze eteriche subito così non c'è un tipo di un drago che smock c'è un gruppo di grigi direi tre una cosa croc cassa la cosa che sono collegati a una base spaziale di specie umanoide e sono scasso nella cosa con le stazioni cosmettono come noi duff e poi c'è un ferinoide leonide e la tasca che si fa linoide che c'è l'as dove sopra c'è odino ai astrofasi io sto facendo edl è stata scelta 4 stere mentali è stata mentale una di livello 5 ieri è stata mentale ma io sto facciamo e pianta una di livello 3 e non appoggia metriaci 5 da spianta e spianta ecco è collegata a mentita mentale collettiva ipocondria è stata è stata con l'activa nasa casa nasca ipocondria è per abbassare le vibrazioni allora ogni volta che se che qualcuno che è legato all'entità mentale collettiva ipocondria senti nominare una malattia obbligo i vibrati è stata a momenti che tascita che spaventano sono stato spianta e coppa già motri da che mi si può contare che amico del suo testa che miniano nota che c'è roba è stata l'opinione c'è i fibrazi parte una un'emozione di allerta e poi aveva cianità che c'è c'è che perché bar zonta che con ipoconio di pericolo di vita proprio vedo france ne va spiata in sol trattato sette e le vibrazioni si abbassano tantissimo e state i vibrati e partono stascevano piaccia io la vedo legata a questa attività mentale di livello 5 la vedo legata al felinoide ita è stata spazio ma pianta questa un tono sfalinaita che ogni tanto gli manda dei sintomi e corretta anche forti la fine francia scena e lei si collega subito all'entità mentale collettiva ipoconderia ha detto no quanto c'è stato è stata con l'acto non altri e l'altra nata troca è stata allora quella invece l'entità mentale con le no scusi l'entità mentale che la rende la rende sicura solo se lei ha tutto sotto controllo tra droga è stata o maest per costa despo con in arte maflusca pot controllo c'è io vedo che lei parte magari a fare qualcosa con trascinata dall'ulta alla sua creatività no quindi dalla sua parte interna vita hanno giocato un'artezza di trovi creative nego potrebbe anche così impulso tacheco pronuncia cosa di finanza e le farebbe fare le cose in maniera più creativa diciamo se c'è bene robito ci sono stata che parte a craterne non spontaneo e dopo poco interviene l'entità mentale di livello 3 poi anche questa società è stata spazio motrice con intervenio che è come se le accendesse una lampadina che fa sì che lei deve avere tutto sotto controllo quindi tutto pianificato anche nei tempi e negli spazi è stata la palla c'è un inquietto caldo cactor a casa i mitoscopo spot controllo sarò fai fico già un tasse che presto quindi a volte ancora prima che lei inizi un'azione disanniamo una facoltà che magari potrebbe fare in quel momento certo ma questo momento trovi entità mentali di livello 3 la blocca e le fa vedere se è tutto in ordine se è tutto portata di mano se i tempi sono giusti estretari stata spazio motrice coi un blocco e i casi controllo faccio presco 3 in concerto trattati è natato poverini trattati e spesso si non inizia neanche perché non è tutto come deve essere la taglata sta mi fa con l'inizio mi faccio una roba ok chiamiamo la figlia nel cinema cosa prossima terassi torca da china come la vedi via che ho vede con una cornellina con una gonna ho vestito con una donna due cotini ma tra cose che sopra no spot net che si siete lì tutta contenta e tanta sciata la porta da casa tavolona curiosa un bardo faccia caffiano la vedo molto vista come la vede un molto vento valona radosso all'inter energica ecco ok non vuole venire qualcun altro nel cinema così ha invito ho preso mio padre la sorella che c'è da occhi in a casa c'è stato fai smosa oi c'è sostra se in realtà le avevo già visti entrare sono un po indietro tra che sta significando giri e sangue ci stavano stavano e anche il suo amico è il primo fila con la figlia gli estroveni a stand sia c'è l'ottore spominava è lasciato spesso un giangelo torco e poi vedo un altro uomo non so se a un compagno o mare i poteri anche gli astra in una nostra snomous prota patogna si è anche lui lì in seconda fila però l'amico l'hai detto se la rincola prima fila di fianco alla figlia impianti cioè carolina ma che si implanta allora abbiamo una mentale che come sembra quasi sei quel filtro la forma circolare del tè io siete in un'implanta ventana e si può minare neanche il filter il filtro da carbata e che ho crongo si è fatto tutto a rete la caccia c'era troppo in mezzo alla testa che sono riuscita un misto che poca sava fuori ad anno poi ne uno la tiroide colline in plant e poi due sulle sulle cresse lì anche una destra e una sinistra e definiva colizia piotter poi per ieri patrochi strani basta tasca ok causa su te ricca di stanchezza succedendo stata regina smantagno ho visto già prima le fanno delle abduction e le succhiano proprio l'energia a volte durante la l'energia del problema alla tiroide 10 moto problem casce moto allora c'è questo impianto che loro avrebbero intenzione di utilizzare gli estanti anni in plant per ogni c'era faccia per fare questo questo esperimento di filtro delle energie della vibrazione di caterina oggi io e che sperimenta si trova né a mai anerchi che però in realtà la sua ps sta cercando di inglobare a lei è d'usata l'acetosa sa blocco faccio e di neutralizzare tra le sovatico questi sono i sintomi che lei ha il stand a sento me che era una maschina sana faccia scocinato ipocondria vabbè l'abbè l'abbiamo già visto che fa che fa andrea mentalità mentale 5 se è stata manca una spazio ma pianta ok come si chiama il progetto di carolina le accende sarà proiettata nascaro di non train mi viene in inglese train train che significa proprio filtrare un po come a drenare drenare ecco 3 9 si trova frenare cosa la l'energia se un treno fanno energy ad action cavoli cercato di non da scelta o profano se un taxi sente 4 al mese sound stare o prova genia mi sento e come se ne vedessi di due tipi diversi stai cercando di perché come faceva da far un'altra che ho provato in terra strassi tra su me c'era nota oggi però come se sono due tipi diversi ma fanno parte della stesso progetto dove rossi narraggiata coprova a volte a volte prendono le prendono l'energia quindi ci trovano da dall'impianto che acqua a livello della tiroide passami papiremo di gener che fa stanno in plant facoltà e poi la come se la drenassero dopo l'energia potendo però andrano valito non c'è una riornita monarchia e a volte invece la prendono da questi impianti che ha proprio del plesso solare i due sulle creste idea che a chassami roba canta rosa c'è dentro che mi implanta un po colizzo splatto sfondo c'è una nuova colizia piota che sono collegati tra loro e vengono collegati a proprio quasi come se fosse una macchina da dialisi ma dell'energia il santa in planta stava un po non c'è una società che capito può a casa che ci sono tagliato di alisa all'energia tecno va bene padre e sorella cosa fanno nel cinema c'era che una stanchine ma poi c'è di sostra allora sarà ti cercate vediamo cosa si è inventata ora c'è stramo video e trans ha fatto mezzata la testa che mi stiva cosa sono qua per imparare non per criticare carolina che ha avuto l'ottima idea di farsi una sessione di prosi esoterica mi ha fatto patate critica la vasta che aveva scelta questa carolina quindi se restano con questo pensiero vanno via subito se vogliono vedere come stanno le cose restano niente se il fame città che la stagione tra nix fonda della società ai reso sminit nostra veneta mi esposa stanno la sorella che la vede un po più come posso dire più sbuffona più scioglioso che stessa capace arrogance catacomb diceva beh vabbè andiamo ma finì ok ok italiana sopia sera il padre invece vorrebbe rimarrere perché gli interessa capire e invece cosa ha scoperto carolina scola e poi c'è tratta solo state queste cave questa sabato è stata anche carolina ok quindi la sola l'andata il padre è stato si padre resta c'è anche se la sorella esisteva per portarlo via ma lui è rimasto c'è stra barzo ciavo vita stampa tarz abbracciare una cosa stoff king ok ci sono delle vite passate in cui carolina e l'amico hanno vissuto insieme testa che ha detto a carolina c'era ma che non spominava sono amnemi affini taxa moneta che mi abbracciato fami sono stati fratelli bene che di fratelli fan mamma figlio mamma i jazz che lei mamma si ha una buona mamma sono stati anche una coppia verità schede sparo direi che il livello prima delle fiamme tesa che con la in età poi bisogna traccomina ok il marito invece a mons li vedo molto affiatati ma la parte eterica non è simmetrica come di solito la vedo nelle anime affini però siamo partiti stavano a lei facciamo a dare cimani e sa un tax m3 c'è la fiamma incarnata 3 ce l'ha una brisgna tre pomi e carolina sì direi mi viene singapore tac poi avesse un totale singapore ed è una donna e sta copiata quindi non hanno deciso di incontrarsi no non c'è niente voi che saranno tra i spot cani e se pontani ognuno per i fatti suoi no karls fai andrà con così deve fare questa vita hanno deciso entrambi di fare l'esperienza con l'anima fine prima del quindi anche dalla fiamma aspettature sentita ed attrante poco e poi ripetere tutto perché se è andata un attimo via la connessione a loro detto la loro ps di lei e della donna singapore hanno deciso in questa vita di fare l'esperienza con la con l'anima fine del livello prima del contrarre di incontrare la fiamma obiettivo e fortemente c'è legno che c'era brad newton va bene vediamo un attimo le abduction perché saranno sicuramente delle abduction arma da fuoco caricata vicino all'orecchio intera sta che si trovate in una pista altra sincaro di nato spocco io che si è bugger nozze i suoi trasporti e brontos e guofia allora sì lì era già la nuova avevano già presa era già come avete su questo tavolo la mia sua sua propria fazzegna e vita è una scelta che mi si sta la unica di metallo direi la mano legata metterlo a questo e gli stavano sana e stavano per iniziare l'esperimento e prima di iniziare hanno caricato l'arma e io sono la messa di robici a chi sta ma che spara ma doniamo gli stanni ma veramente hanno salvato a fare i broni come non è tanto non era tanto diretta verso di lei mi vuota per schierovane che ronco ma come se avessero la paura che qualcuno li scoprisse e la sua ps si è proprio attivata in quel momento lì il tema mente fa stiamo facciato e quindi da quel momento in poi erano smesso di fare l'adaptation e otto con momento sani cari una volta vede tre figure una sembra proprio un grigio una sembra proprio un rettile la terza non so parla ancora di giro verso postati il pacco io la nozza cresce bugi e danno vada fa uscire stacchi mi condisca un postato che soatro che tavolo e chi sta un croccato penso siano proprio le tue interferenze che ha e teri che tanti a fare in setta regiona crona ma quelle che ancora e la terza e quell'umanoide che ho visto nella base accettate questa città paura che siccome noi trattore cattamente risponate base che pace con smith noi il collegato al ai grigi va bene vediamo bene la paura del buio abbiamo detto che ricordo no allora non l'abbiamo ancora vista felinoide è stata la scossa c'è nastra coppiazze nostri ovi totta e poi avesse salino il collegato ad odino pontone perché l'attaca già qual è il senso di avere paura del buio povera dell'ignoto poco di quello che non si vede gli achilles bagna se c'è nostri tra costa con i fidaci allora diciamo che allora ti spiego la prima volta che lei si è accorto è come se lei si fosse accorta dell'interferenza del felinoide totta che è buona per il momento fa so far so far rientra fa la sua ma interferenza dopo la prima volta che l'essere accorta a volte sente sente la presenza ma non ha ben chiaro cos'è poten piersi amrase che tante trovavano dal tuyeto mi combattia c'è la mia sta con tra i miei e quindi avendo paura fino a di riesce a interferirla e boy on set e cotton farino diciamo che ha preso la palla al balzo il felinoide ma sono quasi società cosa cosa stava trovarsi per fare noi di questa sua paura del buio e aspetta proprio che lei che arrivi la notte con le sue vibrazioni basse della paura delle cose stavate tenere straccio c'è nostra cacca chiesa notes che ritrovano sceglie di grazia per portarle via l'energia roberta spazio c'è ancora un giorno in energia la paura del buio ha sempre dietro un felinoide la cosa in qualche modo a che fare con il fatto che i felinoidi sulla terra cioè i gatti essenzialmente ma comunque tutti i felini vedono al buio chiamata che si riusa che stiamo scocotte ea coca tono e tutta i nasce mi invitando giardotto se se ecco ma adesso che guardo è come se avessero più campo d'azione perché loro riescono a muoversi rispetto ad altri tac e tra settembre seconda mi fita scopo a città notte ma come già watch for con i miei statami esiste una entità mentale collettiva a buio paura del buio ma c'è stata mentale una colla externa una poca casa nasa straccia c'è nostra non vedo tanto un entità mentale ma vedo più una corrispondente però emotiva niente la vita di stata mentale non stata che ho troppo fietni chi è una posizione emozionale come se fosse un accumulo energetico di dati di informazioni perché avevo attaccato accumulati a danno che si collega alla persona e scusate si collega la persona con l'idea del buio e è come se in mezzo ci fosse vedo il felinoide io ho anche se è un po da nostra nostra vita la vita si approvati da farinoida va bene proseguiamo c'è una pulizia energetica fatta con una donna e poi la gente con l'inoco punto è molto stanno inarca tecnici asperta un pagno che lavora in bologna presenti su youtube frazzi è stato porca amaro finiscano ho già visto prima è un rettile io stai significavo a maestro ma lei è un rettile o mai stratterà che canalizza un rettile canale soviena rettola però prende quasi le sembianze alla pratica che era tasse cose conti e quella che ci fai dispetti chi è invece attacca ora non totta era più rossnazata tanto testo allora quello che ho visto prima è che tu dici quella di oggi no quello che ho visto prima è che le hanno promesso abbondante energia eterna stacca spagnoli abituali con sanar che effettino un'arca e appena si accorta del nostro lavoro il tesoro forza nostra quando sono prata ha contattato diciamo dei responsabili sopra di lei che hanno una squadra che è in grado di agire a livello energetico e in eterico scontatta vava c'è scritto in case nati ams che mi spunto una cosa gruppo unctorato amore già c'è l'arca tecnici non possiamo mettere di che cosa hanno fatto stata che cosa sapete e hanno trovato ci sono riusciti assolutamente no anti uomo energia a tutti prima che capi anche se al rosso solo il terreno ok protezione a tutti noi dita teme monica moni e stefania e a cronata nostre scherzo per monica stefani grande ad eternum dentro il quale ci siamo ognuno di noi ognuno al suo e a cron ad eternum ben genio carterna scorte vabbè quindi la donna la donna invece questa qua che fa le pulizie energetiche lo sa a tappani ottono che mi trova più tempo molto spagnolo che è canalizzante un drago rettile non vi asa che hanno risolto la no sa solo che a volte non è lei i miei a tenere che è una rotazione stona sama ma le cancellano qualsiasi tipo di memoria lei possa avere a lei caso che un po tome che cose cose pamenti che non sono però sa che a volte non è lei che agisce alla stessa che sprava fatta famigliata neon ciao è come se si accorgesse che agisce agisce quasi l'opposto di come lei ciascami france uscita ma sappiamo giocciava la casa mia casa mona est perché perché carolina ha avuto dei dolori e l'ha sognata dopo un attacco carolina potremmo ciascami stampa nio a ogni nozze ora stiamo potendo voler c'è la allora allora è un po complessa la cosa perché è collegata a due aspetti tra vata scomplica fanno appena prossima tasa cosa che si fa ma non mi aspettami è come se carolina dipolgendosi a lei e chiedendole delle cose perché carolina frazze ansiedoni avesse fatto in modo che rettile che canalizza si è spraveva già tenere attraverso tanta panica analisoia si agganciasse alla l'entità mentale ipocondria perché per lo spaventato un repto quanto c'è stato di stato mentale non sono schiappofondri e quindi la sua entità mentale di livello 5 e contale se non so questo è stato mentale lo spazio mi canta cotto romano carolina quindi ha provocato dei sintomi il tonico la donna lo sa stata copiata reata ma perché viene cancellato tutto di quello che fa nel dettaglio mi è poi ne faccio un ipotene cosa vogliamo scattata robin in corte del tecoccia robin la donna ha solo una sensazione che a volte non è lei e fa l'opposto di quello che è lei o ma maietta copiata maia tenete che ho tutto c'è giugnato quanta stavano sarapiti si pergna contate col kimono sa maestro chiamiamo tutti quelli che hanno fatto un trattamento con questa donna stava sa di matera successi e forza media che cose è creata ma il contatto è stampa no e che cosa è costruzione ha avuto stranio quanti si presentano io lo siamo poi abbiamo 369 c'è stascia di chance di event sono tutti nel cinema c'è stata scelta che faccio anche nella vedo che quello che riesce quello che le fanno fare è agganciarsi a un'interferenza che hanno che la persona già e tazza che però abbiamo stampa non tante potrà poter contare un suo pot interferenze in corso e costa che la santa somma e in quel momento l'amplifica il tema mangiare un po vengale interferenze così il rettiliano prendere l'energia e tendrà a portare c'è un'energia è collegato rettiliano collegato a uno della sorgente il tempo come si chiama questo uno del tempo di accionata passo pastel e che vuol dire passato e futuro uniti ma che vende una gramba di dire che coglione vorrei sapere come si dice in polacco creta un idiota la peggio però se attenzione segnala letteralmente non ha proprio senso e quello che dici sempre spoto bagni e cosa vuol dire che non riconosce a quello che dice sempre l'ha detto prima mi ha indicato di chiedertelo non ti sentiva bene scusate controlliamo la giuggino quello che controlla i chakra interessa colline porti in accia spazio 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 sanzani e cattura prato di spola maner cacrami diciamo che rileva un po le vibrazioni che sposto piera tosh anzania vibrazia quello che posso vedere è che fa tipo una media delle vibrazioni delle varie parti del corpo e piera scegna che i brazzi è un po superficiale lo vedo un po superficiale a lei sta un giovane tacco santa nesta che porta un po che sono perché le nostre vibrazioni sono in movimento continuo dinamico con i nostri prezzi e socia come anche santa nami e quindi da dei dati è un po così po un gioco non so come dire non sa che non è stata sveglia racconto la casa prova avevamo in realtà già con un lato in passata in effetti vedo la stessa cosa che riesce a sfruttare i fatti non essendo attendibile è un gioco perché ho scoperto intendibile oppure mi sembra che ho visto la stessa cosa anche se non mi ricordo più o meno non possiamo tirare il nome no no bene no va bene vediamo il lavoro ha lasciato il vecchio lavoro c'è una causa esoterica e colline punto prazza carolina faceva pratica la sua ps è riuscita a comunicare con lei ed ossa scomunica fa faceva e a farsi sentire c'è una sola e nel qui ed ora di quel momento lei ha fatto quello che era meglio verso il suo benessere in quel momento io non ho troppo attaccia botanella in aire l'haften concreta nel concreto nel momento quindi direi che ho fatto bene ci arriva tra prima torsa tanto non si è mai in pericolo di morte quindi cosa intende che si è sempre pericolo di vita e basta dico io cioè se quella cosa lì la faceva stare male e dopo sta bene alla sola possibilità di poter vivere veramente c'è la città a pratza con i portani da operata la sma mostre questa cosa c'è che mi sta prestando per i trotti e circa il nuovo impiego una nuova vita ha stata notte una fai scherchi mi viene che può usare le conoscenze che ha imparato quando lavorava lì poi aveva stata che in formazione a sette informazioni e attore tutto frescato così non c'è o apprezzo non stampante misto perché in fondo c'è una parte che a lei piace molto quindi questo è stata capata tona lobby e può sviluppare un suo lavoro autonomo in quel senso con altre persone private in mossa un po tipo una consulente non so una cosa così ma c'è che mi sconsultante a mossa finanzava in testa che si è bloccata l'immagine non so se ci santa chi ha di lei caroline vediamo contanto continuiamo a registrare no no sì 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 si muore suo fantasmi due case e colline pont carlina prossimo spavazzani c'è fici mosh vg tuca il mare trova dei fantasmi allora ho visto è come se ci fosse un un accordo perché poi questa nuova tra un vario un gruppo di disincarnati dello stesso famiglia e ma cluster più che famiglia cos'è nuova mezzo gruppo duco feste i fami roginers nato castro qui quindi legati a una ps di uno di loro e stavano i pontani sbocca toro come se venissero richiamati tra di loro e rimanessero in queste case nella casa legate al marito direi che vogliono i potenti stavano avanti voi nei tutti i capo oggi o ma direi che questo disincarnato che attira tutte le altre le altre disincarnati da lui conosciuti nei contratti del cluster e a stacca con una porta c'è che si era un doctor e poi a poter una scostra è il nonno del marito e tra che c'è propria giata nonno paterno sestrone ottimo allora chiamiamo tutti i parenti di carolina tutti questi davanti al portale auro tutti questi disincarnati e la quadri totale sbocca smarro che stracene caroline da portarlo sotto e comportarlo con 30 ma ma tutti i parenti intendo tutte le generazioni che è poco staccio vediamo quanti arrivano esclusa la madre non come numero cosa faccio mai riuscire poi aveva ma allora di calori di carolina 97 g20 c'è tanta strana stracene carolina e tutti gli altri del cluster del marito c'è del cluster di questo tristrano del marito 84 io c'entere due strontate coppia la giacca morti da cini vacca dall'ultima volta oggi ci va che ci va che smarli e fagni costa parchi 8.715 o scente scienze scelta spiattano è stata nega momento che amico possiamo rispetto portarlo in tutto il mondo è una specie bene sono andati tutti tranne la madre queste versi cosa mamma e quindi la fa fatica a dare mai a un tronno sceso da nascita ma i preferiscono con carolina e sono nelle sue case quindi se ne vanno subito all'interfero carlino scambio alist da lì se non vogliono andare nel portale auto va bene la loro scelta se ne vanno in un portale qualunque facciamo un po finito degli sdomo ai signori a un valido portalo poi il bravo alla volta sopra poi si rima le mie scagne brutale normale no no lui dice nonno dice sono d'accordo con te ma noi dobbiamo fare questo compito tangente che tempe raggiate come ferita scatta ci stavamo la musce mese con attesa da niente era il compito di un fantasma ea chiesa da niente roma c'era con altro se non andare nel portale aureo gli assegniamo da c'è un posto sacco portarlo diceva sì sicuro perché qua c'è scritto così un verità cala totale vuota cosa pesano contratti allora cioè non ne voglia né tempo di stare dietro a parlare con un fantasma gli diamo la vic gli apriamo due portali uno da nel portale aureo uno da in un portale che porta direttamente a casa di quella cretina illetterata che ci rompe sempre la soluzione cosa si passa da memoria picco cavi e in traste faccia abbiamo fatto un portale a tanta tanta volta e porta ladro che porta il profananza date carte anche tracciata pescata perché non sa neanche l'italiano dice sì coinciso al posto di sì conciso coragno come lo traduce questo e con altre parole la poverina ma la fancora lei sta facendo no 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 ha fallito raccogliendo le fave nei campi ma tiro e quindi prova tutti gli spunti per come dico gli rode che lei fallite te no e quindi mi metteva snubile in poveretto e pensava che io lo copia la copiavo ma ho mai mandato o meno l'hai mandato il fantasma è andato lì no 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 mi ha detto l'omino l'abbiamo mandato ma il fantasma che fa è qualcosa ogni tanto che se ti capita apprevate totale per centino così e ha scelto portale aureo ok pratiata ecco pado stanno trepico che in farmazia mi fa però sotto e porta peccato ma non c'è qualche fantasma scemo che non vuole andare alle aureo a seconda di la vita di li apriamo solo quello di ricca fatto un picco che cosa fa snoto cinema in una festa e chiama il il fantasma più cattivo del mondo davvero intera sta in parte di frattina goto cascata e pantera lei maga scusa se ne libererà da sola poco tutto quello che ci ha mandato doveva fare l'equilibrio no scala di stacca sda un attaccata chi ma casneto un fuori ci ha negato il picca incendi nelle case tasca tavola li ha fatto questo qua e capito c'è uno che ha picca i incendi lo stai mandando ma l'ho chiamato ho chiamato disincarnato dei più cattivi dove vuole andare disincarnato dei più cattivi poi ci dicono che siamo cattivi ma scusa ma era manda con questa c'è ora va beh ascolta già qui siamo in disequilibrio e la bilancia fa così quindi bisogna tornare a diritti lei se deve ritornare deve ritornare tutto quello che ci ha mandato no la storia non pagamo no 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 vabbè chiudiamo questo portale cosa vogliamo fare con carolina cosa vuole fare carolina cosa facciamo la mamma è entrata non abbiamo hanno la madre scusa mi è vero la madre ma cosa vuole dire cosa c'è mamma la madre c'è mamma testa pochetti scala linea non mi ero accorta di quello che mi facevano a fare l'interferenza nei tuoi confronti mia c'è cosa 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 adesso con la consapevolezza è l'esperienza questa esperienza possidenza della mac apartment e turismo l' celular partiamo a chiama progresso lasciato scherzo vuole aggiungere qualcosa per la figlia è stata stata c'è conosciuto ma sta torchi vuole dare un abbraccio con per farle sentire quello che sente lei con la neutralità della vick è stata la stessa è stata la siano fattore sta per trovare oltre la nostra estate costa nostra una traccia santo che possa raccogliere più coca e così sente quella vibrazione di tans posto però finisca rovin a portare con vibrazia dice non ci sono parole che possano spiegare questo stato muovesse animata che il software bodao e gli accetto ok la salutiamo se la mia mamma portale aureo che porta la data e andiamo con carolina seguendo la nel cluster e già metterà carolina c'è una scena particolare davvero avevo già visto prima che la sua bimba era particolare mentre leva al cluster la bimba si è alzata dal cinema è preso la mano della mamma è voluto andare anche lei da carolina o davace da castra e zorcata al campione stava e dicevamo a me sarà anche i stati amici ci voglio voglio vedere da vicino perché poi lo voglio fare anch'io molto bene guarda top come li vedi contratti gli hd sta contrattata sono quelle palle da spiaggia gonfiabili e fatte a spicchi colorati è stata che più che la soffa con la roba sta che mi sa vuole camminere si vuole tenere attraverso ma il portale definitivo neosfera porta alta finita e via tutto ad eterno un qua io faccio a contratti e cravoia ma ad eterno ok a potente carolina caravigliata interno ma vel comodo ad eterno 10 mila miliardi g6 miliardo la bimba ne fa uno di suo suo i roversi torca creo e foia un miliardo di miliardi 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 e se lo mette nel cluster i roversi e roversi messa fa in braccia tank e lo pulisce lo toglie toglie tutti i contratti la bimba se torca rovers posso farci che contratti io ho cesta cluster avanti la bimba ok avatar la ci seguono sì 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 in gemma d'avatar e torca i gesti da me aperto portale definitivo ho trovato un portale fin interno allora ti dico questa scena particolare sta viva particolare allora la bimba mentre assiati all'avatar di carolina e stava aprendo portale definitivo la prima si è cercata al suo avatar e poi è riuscita a switcharlo con quello di fianco a sua mamma e tra staccava finca fa stanno tutti i pistoi alla notte in carolina otterrava portano poi avatara roversi torca posto a pepo so che spiega avatar a isamini amistami che avatar e poi che fai deve essere aperta sul portale definitivo la bimba quindi la carolina aperto il suo lenzo il suo bel vetro fa solo a portare la definita nata misto carolina sui torca sui carolina butto il suo avatar carolina valuta sfogliata e col col fatto che la bimba fa quello che fa lei carolina e molto più la vedo molto più decisa e fatti e fatti c'è torca rapita s'ama zavonato caroline stampare c'è stata scelta carolina e quindi va diretta mentre la fresca facciuta con questa nuova condizione carolina ancora interferenze di qualche tipo c'è stata la nuova che farò un carta carolina ma natale che cose che sta interferenze no un progetto di abduction che cose che proiettano sopra fatemi amy no il progetto train train no ok le facciamo che creare altri ad eternum uno nel corpo fisico con il terreno che vero via colline all'interno mi ha lasciato la fiesta c'è manco corpo mentale non facciamo mentale emozionale la emozione tirico e a terra c'è manca subliminale e dos uno per casa le due case quei fantasmi la costa costano una è questa dove vive allora una dove vive poi c'è l'altra con la casa precedente dava anche lì hanno vedevano fantasmi e poi si può anche vedere la casa dei genitori dov'è cresciuta lei ne vedeva una terza che prossimo spazzano verso un tamoro genna poi avevo quadroso non sono amiche mettiamolo anche lì e ronestano ad eterno nuova frequenza di carolina ea caist terra di brazia carolina anzi vecchia e nuova perché non l'abbiamo visto la vecchia un pop sarnia capo voglia con il star as prima era 18 miliardi adesso e 215 facciamo nasce miliardo carassia triste per classe miliardo 18 iniziali sono tanti a passiamo a scettare scettac modoso e la fa vedere la sua vibrazione la bambina a fibrazia torchi rovina 1789 c'è danza traccia di soli 15 miliardo a cos'è una perla tratta che stava strana per one no se 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 non ha mai avuto un'interferenza finora nota che soltanto teppor anima interferenze è tradotta la sessione perle no si ok si vediamo a stanza se carolina per poi le fai sapere quale vecchia e nuova consapevolezza poi si fa da mostri testa di terras carolina 131 staccia di stia tantra tanto però 187 stava centrici anziata attuale senza la vecchia ps rapporto psp e in rosna vacamente tuccia ma c'è la materia c'è la fine 64 36 60 3 però tanto questo stesso vecchie nuove vite riposare c'è cioè di terrasse 2469 bevo attivate senza tutta resta sgigione 1821 la terra stessa scienza tanti in meno ok vecchio nuovo nuova percentuale di cervello tra santo giovane comus coi taras 9.3 bevoggi e vincere sopra tanto 9.9 la terra stagione ok messaggio finale di carolina a se stessa e canceva che adamos da carolina relativamente a tutto e se specialmente il suo futuro attuale l'attuale futuro di consapevolezza e di lavoro via da ma è stata tanta cosa tutta la scena da sé ora è andato a tronzo suosti carlino per la casa si cerca si vedo quello che vedevo prima appunto che come se vedo che potrebbe essere molto piacevole per lei è molto creativo molto che vibra verso il suo benessere utilizzare quello che ha imparato nel vecchio lavoro per rispetto ai pannorni e fici erano tanto faceva successi nero parto pomozzo una cosa così non trovasse fai passati e prazza e crearsi un lavoro suo con persone private ecco alle spazioni a totale prefatti in java nostri sa che mi stanno amici a sabami per quanto riguarda la sua evoluzione spirituale energetica ma se si cogge rosa poi si fatto mostri vedo che come se lei vedo che sposta e muove tipo delle dei coni tipo piramidi e piccoli grandi colori diversi vita io mi ha chiesto che il piramide che sto scopro sulla colore potrebbero essere dei cristalli ma cosa pesce cristale quindi allenarsi proprio alzare le vibrazioni e magari appunto la relazione alle rocce cristalli c'erena più sa quattro 3 no faccia poto sono i fai brazzi le cose stane che cresce in crescita una psiquota camini anche all'aperto nel bosco roffner e poi un'altra cosa uno sport e poi a faceta scola in forma sport che potrebbe essere o uno sport tipo però come la vedo tipo che potrebbe fare tipo un'arte marziale tipo tai chi o una cosa così oppure la vedo anche camminata in montagna proprio ma conto pezzo al po ma che c'è stato che fa al kit e poter c'è una spazzare paura in montagna proprio posti dove c'è tanta salita che arrivi anche in posti molto alti e te core sono che strano ma non parlano cosa cosa c'è così c'è con c'è con potrebbe essersi si non so proprio faccio c'è con si vedo proprio che mentre fa questi due sport proprio le vibrazioni che lei che immagina di alzare le vibrazioni le vibrazioni si alzano come se poi a un certo punto si trova da sole in una dimensione separata dalla dalla realtà il mancet modo dai sport a un vittorio appartiene parte grazie adatta che con momento la vita francese c'era chissà che c'è scendi o forne c'è scendi va bene quindi la vedi diversamente dall'inizio c'è risa panina c'è un video c'è ma poco adesso la vedo non più statica seduta come prima in mezzo alla stanza terrasse negli scegni ero comoda che con la potenza coiuta la vedo che fluttua e muove e fa dei movimenti ritmici con le gambe vita più attacca francesi con acqua che è fatta che rosnava con noi non rancò ma in oga miro che lo spazio intorno a lei è infinito non ci sono più le pareti della stanza e tappi accioniva con il mio granito hanno animato a usare cristiano ok l'amico nel cinema che fa abcciati al schienzo europei ha messo le mani così sulla faccia stupite dalla bellezza di quello che le ha mostrato sa creva sapere due anni di far questa persona ton pink tante cose che sono stato tra i sabato la carolina ma poca sava un marito mosh è un po confuso strasca smiascione deve mettere insieme i pezzi non c'è sapete affrescato gioco quadra strassi e troppa roba tutt'assieme non so cosa cosa che informazione la figlia va banto che non è anche dove si parli ma torcava con la mia pretenda una data mist la vedo fluttuare fa dei disini colorati crea delle robe palle di energia che sono che tu scrivo la sua sorella la sostra non c'era non c'era se ne è andata se ne è proprio andata si so farà questo ma poi si sa che non ha fatto un commento né mai il padre a ricezzo il padre guarda ci ho capito niente stata parte 6 movie mi sta con il trasmiavano stata stata padre papà a tata e papà data oi pover pover zonia no a pova zenia pova zenia che cosa vuol dire non per con mai buona fortuna una fortuna pove zenia pove zenia abbiamo finito quindi abbiamo finito smetto finisco quale registrazione